Uno, via! Questo è uno dei 19 alberi in giro per la città e domani, prima della scala, con 35 video con musica per cercare di portare anche la prima della scala ovunque. L'idea è un po' di far sì che non solo chi può essere così vicino può godere di questi momenti. Per il resto, l'albero, come tutti gli anni, piacerà, non piacerà, ha fatto Cristina, dovrei piacere, però... Quelli che urlano sono i parenti, sappiamo. Adatto, parenti e amici.